Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nucleartron, io sono Leon e siamo qui oggi per farci male perché meldi Vai meldi Obiettivo loop senza, con la sblocco della miskin perché a sto punto se faccio il loop con melding lo faccio bene Obiettivo quindi loop con melding con lo sblocco della miskin Se rovio devo farmi anche nel male rovio fisico puro perché non prendermi anche un lanciagranate dorato dall'inizio Ma mi sembra ovvio e perché non andare colpo a colpo con un wrench Con il lanciagranate dorato credo che la tenterò una volta sola sta cosa Allora, relo skin no non può essere usata Cycle gland carina però non so Gamma gazz proviamola uccidiamo i nemici che ci toccano magari può essere utile per alcuni nemici O comunque no, boh non lo so dipende molto dalla situazione in realtà Perché ok tipo le larve sono troppo deboli per farci danno Quelle grosse no ovviamente Non siamo ancora a big bandit anche se devo stare attento Ovviamente quando ci arriverò Te te ne vai purtroppo mi dispiace No ma in realtà mi conviene mandare via Il La wrench perché Buona ma pericolosa in questo momento Quindi meglio evitare Prima ti ho pensato fosse un bimic Poi mi sono detto quando mai ho visto un bimic qua Non può essere un bimic Non lo era per fortuna Reno skin come sempre arriva Però non la posso prendere I golyce o bolt marrow I golyce perché stress Ok c'è un 40% di aumento praticamente dell'effetto che farebbe normale Perché ok in percentuale Però ditemi un nemico che mi fa uno di danno E che noi non abbiamo già eliminato dalla possibile Dalla possibile apparizione dei nemici Quindi ditemelo Capisco Mentre le golyce Carina come cosa Non sono troppo sicuro Se ne varrà la pena Però deve essere carina Devo stare attento Non sono in mure a quei colpi No mi goviene assalto rifle Non crossbow Devo riconoscere che mi serve Che mi serve in questo momento Creare un setup Minimo equilibrato Se voglio sopravvivere Second stomach Oh Oggetto del secolo Oggetto Mutazione del secolo Second stomach Al bacio vai No 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 proprio no Normalmente si è buono In questo caso Proprio no eh Cioè in fatto In questo caso Non si attiva Con un minimo di utilità Sto spammando abbastanza Lo so Però Non ci posso fare nulla Io vado molto In modalità Spamming estremo Oddio Sono successe cose Credo veramente Potrei definire In tutta tranquillità Quello che è successo In questo modo Addio te Non mi fido mai E puoi mai ritenerti Ancora Vado con la Frame Shotgun Utile Si L'ametto Si è stata utile Ma non mi conviene mai Quindi Andiamo avanti Scaler fails Minori HP Nemici Quindi Ok Ok Io ho paura Delle tartarughe Perché sono Discretamente veloci Quindi Va bene Ah comunque Adesso Frame Shotgun Cioè Funziona molto bene Perché abbiamo La precisione Di Non lo so Minigun Lo so cos'è invece Minigun 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 Esplosioni più grandi Mi spidi Mi spidi tanto Quindi esplosioni più grandi Minigun Va bene Perché ho visto Troppa roba Qui sotto Quindi Vai Esplosioni ancora più grandi Ok Facciamo anche questo Esplosioni sempre più grandi Più grandi Siamo tipo L'America Quindi Facciamo esplodere la roba Il più possibile Double Shotgun Lo prendo Dovrebbe fare più danno puro Proprio puro 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 Ovviamente Ciò significa anche che Io sono in realtà In mezzo panico Perché Muoio male Con un solo colpo Da Una mosca Che mi tocca Quindi Sono preoccupato Ma devo dire proprio Che se mi fai Questi piani Per Che ne so Quando arriviamo All In Hunter Io ti mando a cagare Gioco Che non puoi comprendere Che finché me li fa qua Ok Ok dico vabbè Però se All In Hunter Tu mi fai un piano Del genere Non potete capire Le bestemmie Che sparerò Ok Il setup Non è brutto Prima che siamo Melting Cioè un colpo Moriamo Cavolo Non c'è molto da dire Un colpo in ogni caso Porterà la nostra fine Ok posso passare Ok Così Te muori Prego Pop Rifle No meglio La minigun Che cavolo Ci penso a fare Anche Open mind Open mind Non apparite Voi Cechini Adesso Ok Mi è partita La malità Cantante Cantante Quindi va bene Così Morto Uccidimi tutto quello Che c'è là in zona No grazie Sì grazie Sì 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 Assolutamente grazie Max shells Quindi ci sarà un'arma Per le shells Cioè ci saranno Dele shells Quanto meno Eraser Carina Shotgun Eraser la preferisco Anche se questa è praticamente Un eraser Un eraser Magari è un pochettino Più belloccia Ok No Maledetto L'ho sentito dopo C'è un altro tentativo Ah ovviamente Ho dimenticato di levare questo Giusto Ren Ti piace la Cobb of Rage Golden Golden coso Golden Golden Il granciagranate dorato Ecco ce l'ho fatta Di piace al gioco Mi piace proprio Per il mio soffile Maledetto L'ho sentito L'ho sentito Adesso mi sposto a destra Shotato Vaffanculo La keyshot No La switch No Ovviamente La beppo Un momento di HP Di chest Di amo Quindi non è male Alla fin fine Non mi è spiegato Prenderlo prima Perché è un momento di HP Di solito Ok Cioè stiamo Va bene Però Ogni volta Menu Play normal Melting Non esiste L'armadolata di melting Non esiste Sapete che io mi ricordo Anche che la prima volta Che C'è la prima volta Quando giocavo Prima di questa serie Credo vagamente Che mi era capitato Sempre La golden Granite Il golden granite Rauncher Per melting Veramente La mia maledizione Con melting Inutile Adesso Prima arma Che trovo Cioè non golden Granite launcher Volete scommetterci Volete scommetterci Io ci scommetto Guardate Oh lei Assault rifle Dai Quanto meno Ah Fare esplodere i cadaveri Utile Io che non sono capace Usarlo Ci tengo a dirlo Hammerhead no Bloodlust no Quindi Masswell Più munizioni Per le armi Possibili Quindi vai Però è vero Cioè proprio che inutilità Avevano le altre due mutazioni Con noi No strong spirit è forte Non capite male Però strong spirit Non la posso utilizzare Se voglio fare La biskin di melting E voi dite Ma che ti sei fissato La biskin di melting Perché Le biskin di tutti i personaggi Sono l'obiettivo Uno degli obiettivi Principali di questa serie E io sono una persona Estremamente pratica O faccio tutto in una run O non lo faccio Quindi via Open mind Ci sta abbastanza Così dovrei avere Più possibilità Di ottenere roba Che Confido Almeno una di esse Sarà interessante Sto che open mind Dove aumentare Il drop di chest In genere Quindi ok No Che fosse più basso Che poi avevo La No no Non c'avevo la wrench Non lo so Vabbè Andiamo Faccio questo tentativo Perché Perché sì Se arriva abbastanza Lontano Potrebbe essere L'ultimo Ah perché Neone Non essere così tanto pessimista Che ti dice Che non ce la fai A vincere La mia faccia dovrebbe essere Stata tutto un programma In questo momento Second stomaco No Quindi Trombat Vai Esplosioni più grandi Vai Almeno queste esplosioni Non mi fanno Ovviamente male Cioè Vantaggio Mori Ok Grazie 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 Le HP Soprattutto Cioè Non letteralmente Perché mi ha primorato Full vita Quindi Non ci ma Granade Launcher Salve Che poi mi conviene Prenderlo in confronto All'evolver Perché Un'arma Differente Magari Funziona Cioè Ottengo Ottengo Boiling Vales Ecco Boiling Vales Mi permette di Spammarlo Fregandomene Assolutamente Dalla distanza E Tipo Shottando I nemici Principali Del gioco In In un Tribudio Di Esplosioni Mortali Più o meno Più o meno Perché Ovviamente Non è così Semplice Utilizzare Quest'arma E poi Ovviamente Io la Spammo Me ne fregherò Assolutamente Di mirare Inoltre tutto Questo combina No Però Combina A livello Scenico Con le Esplosioni Più grosse Dammi Un Garteling Launcher Io sarò Contento Mi sta Dicendo Il gioco Cioè Il gioco Mi sta Chiaramente Cioè Mi sta Facendo Spirare A questa Frase Ora A te Mi Mi fai Plutonio Munger Perché Ho bisogno Che drop Si avvicinano A me Il più Velocemente Possibile Prima Che io Muoia Ok Ok Finché Uccido Io In realtà Un obiettivo Nella vita Ce l'ho Cioè Non nella vita Magari Dovevo Esprimermi Leggermente Meglio Si Spar Tutti Questi SMG No No Ok Mi piace Però Ammetto La sua Imprecisione Cioè Può Piacermi Quanto Voglio Può Piacermi Quanto Voglio Però Devo Dire Che è Assolutamente Improduttiva A volte Quindi Meglio Fare un passo Indietro Io E non Morire Che Morire Non c'è Molto a dire Te ti apri Questo Mi Uccide Istantaneamente Tutti i nemici In stanza Scendo giù Andiamo Dalle tartarug Dalle tartarugozze Che poi Tanto lente Non sono Giustamente Ok Bounster Shotgun Ecco Bounster Shotgun Io invece Ti dico Sì A posto Di questa Perché è Abbastanza Buono Posso fare Un po' Di spamming Retro Cioè Un po' Di spamming Non retattivo Cosa significa Retroattivo Mi direte E io vi posso Dire in questo Momento Nulla Nella lingua Che stiamo Parlando Adesso Un giorno Magari Avrà Un significato Però Mi viene Quindi Andare A fare Così Grazie Muori Proprio Mi state Dicendo Zona Adeguata Per Mating Per Iniziare Una Una cosa Del genere Vai Fiamo Un po' Di esplosioni Sono io Non esploso Cioè Mi è sembrato Di avergli presi Palesemente Quei nemici Muori Muori Prima che Ci siano problemi No 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 Ok Il panico Che ho in corpo Quando gioco Questo personaggio Comunque È spettacolare Per voi Io ci sto Soffrendo Ci sto anche Sommatizzando In parte Perché Morirò Un giorno Io facendo Un video Di Nuclear Tron Ne sono Consapevole Se questa serie Continua Troppo Morirò Tipo Di Infarto Vagamente Ne sono Vagamente Consapevole Fammi fare Un'esplosione Qua al centro Fammi fare Un'altra Esplosione Così Plasma Gun Plasma Gun È carina Quindi Io me la prendo A posta Dell'altra Sci No Sci No Sci No Facciamo così No Non posso Fare così Sì Posso fare così Vai Fa un culo Morirò per le mie scelte Ma sarò morto Perché io ci credevo Laser Brain Sto punto Se morirò per le mie scelte Voglio morire Tranquillo Vieni Non c'è nulla lì Non ti farà male nulla A te Bastardo di un ninja Oh ecco Muori Grazie Sofferenza a tutti voi E alle vostre famiglie Ninja Non l'ho visto mai Muori Grazie A me Munizioni A me Esplodi Prego Non volevo usarne un altro Di proiettile Morire Per colpa della mia stupidità Non è già poco Morire per la mia Voglia di essere tirchio C'è proprio un altro livello Ma lasciamo stare Ok Pregherei Che continui così Vai Giusto Identico che c'è Esiste la polizia In questo gioco Quindi Deve esplodere anche essa Non voglio entrare là dentro Dammi le mie mutazioni Autoshotgun Eh L'autoshotgun Mi fa dire Che io vado così Perché sì Ti utilizzo Cioè Va tutto bene Possiamo andare Che mi offri Allora mi offri Trigger fingers Che carino Però io prendo Rapid Pou Ok Non l'ho visto mai Quel colpo Mali Siamo a 15 minuti Quindi io chiudo qui Spero che I miei momenti di felicità Come sempre Vi siano piaciuti Questa serie Questa Puttata Questo Coso Qua da Lione è tutto Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao Maledizione 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 Grazie.